Musica Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel Territorio. Quest'oggi ci troviamo a Seren del Grappa dove incontriamo il Sindaco Dario Scopella. Bentrovato Sindaco. Grazie e benvenuti. Grazie del tempo che ci dedica per fare il punto sulle tante attività che accadono qui all'interno del suo comune. E partiamo da una tematica sempre molto accesa che riguarda le amministrazioni pubbliche. Parliamo delle opere dei lavori pubblici. Cosa bolle in pentola? Beh, fortunatamente molto. Ci sono molte opere che devono essere completate, iniziate lo scorso anno. In particolar modo la risoluzione idrogeologica del problema che c'è in valle di Seren in località col della Fontana. Quella ormai è un'opera quasi completata, che verrà appunto completata nell'arco di questa primavera. E poi soprattutto il completamento dell'adeguimento sismico della scuola di Seren del Grappa, che era iniziato a settembre dello scorso anno e si concluderà con la fine di questa estate. Un'opera importante appunto perché mette in sicurezza i nostri ragazzi e proprio sulla scuola di Seren una cosa che vorremmo fare, se riusciremo a trovare le risorse, sarà anche la sostituzione delle finestre. In questa maniera l'edificio sarà a posto sia sismicamente che anche dal punto di vista energetico. E poi c'è anche molto che dovrà iniziare. Abbiamo in questo momento in gara tre opere pubbliche. Il rifacimento del ponte sulla Vien, quindi in valle di Seren. Abbiamo il rifacimento, o meglio la nuova piazza Arasai con anche un miglioramento della viabilità e la sistemazione di una strada in montagna, in particolar modo nella coca delle bocchette. Queste tre opere cubano per circa 1,2 milioni di euro che dovranno partire nel corso dei prossimi mesi. E poi ci sono anche progetti che hanno risorse che quindi potranno essere messe in gara nell'arco di quest'anno. La sistemazione della frana di Col dei Bofat, una frana che si era verificata con l'alluvione nel 2020. Sono arrivate delle risorse, non tutte quelle che avevamo chiesto, ma comunque una parte delle risorse che avevamo chiesto e con le quali cercheremo di andare a mettere in sicurezza l'abitato di Col dei Bofat. E poi la sistemazione con una conversione dello stabile della ex scuola di Porce, in questo momento abbiamo il progetto definitivo con il quale stiamo raccogliendo i pareri per poi poter passare appunto l'esecutivo alla gara. Un'opera importante che abbiamo cercato nel tempo di trovare le risorse e poi mettere in cantiere. Perché? Perché la stessa cittadinanza ci aveva dato come indicazione il riutilizzo di una struttura così importante, iconica per la borgata e per la frazione di Porce, proprio con l'indirizzo turistico, perché all'interno dell'abitato partono anche diversi sentieri che arrivano anche sul Tomatiche, poi da lì al Masticcio del Grappa, per cui era importante per loro dare una definizione, un'indicazione nell'utilizzo di questa struttura. Per cui tante cose in pentola e la nostra speranza è riuscire a cercare di metterle tutte in cantiere e chiuse anche all'interno della nostra amministrazione che scade il prossimo anno. Quindi bisogna lavorare spediti. Ci sono stati comunque dei ritardi, delle difficoltà, pensiamo, legate alle problematiche che attanagliano un po' in questo momento famiglie, imprese, ovviamente anche amministrazioni. Faccio riferimento al problema dell'inflazione, del costo dei rincari energetici, ma poi anche delle materie prime, banalmente anche la mano d'opera stessa che talvolta non si trova e quindi non si riescono a fare i lavori. No, fortunatamente le opere non si sono fermate per questo, certamente ci sono stati dei rincari che hanno subito le opere e quindi le imprese e attraverso i decreti che sono stati fatti dal governo stiamo cercando di andare in qualche maniera incontro a queste maggiori spese. Per quello che stiamo mettendo in gara in questo momento effettivamente abbiamo avuto due gare che sono andate deserte e questo naturalmente è un problema perché ci sta rallentando. Abbiamo rimesso in gara le due opere e speriamo che questa volta possano trovare una soluzione positiva e poter partire così con i lavori. Adesso facciamo un altro riferimento ad una problematica che riguarda un po' in generale tutto il nostro territorio, sappiamo la provincia anche ne soffre ma il sistema Italia ne soffre. Mi riferisco alla siccità, alla crisi idrica. Su questo fronte voi per esempio come vi state comportando? Dallo scorso anno abbiamo subito una crisi idrica importante, abbiamo avuto i vigili del fuoco che fortunatamente li ringrazio per il lavoro che hanno fatto, sono riusciti a mantenere una stabilità nell'orogazione del servizio agli utenti. Crisi che però è continuata nel corso anche di quest'inverno e noi cerchiamo di fare sempre come dire una comunicazione attraverso i social, attraverso delle locandine appese nel comune per dare informazioni che la siccità non è finita, l'emergenza non è finita e per cui vi è la necessità di utilizzare al meglio questa risorsa. Giusto per dare un dato abbiamo avuto nel 2022 la metà delle precipitazioni medie rispetto agli ultimi appunto 12 anni, per cui è stato davvero un anno molto molto critico. Speravamo in un inverno nevoso e invece è venuta meno neve dell'inverno scorso per cui come c'è stato anche scritto sui giornali in questi giorni effettivamente il feltrino e in particolar modo il massiccio e il grappa sono in una situazione davvero preoccupante. La stessa Regione Veneto comunque ha invitato i sindaci a fare delle opere di sensibilizzazione comunque verso la cittadinanza stessa per le buone pratiche se vogliamo dire così di risparmio d'acqua. Sì che è comunque un uso comune che bisognerebbe mantenere sempre ma probabilmente nel momento in cui l'acqua manca poi ci si accorge che è necessario risparmiarla. La centralina su Stizion? La centralina su Stizion diciamo che è un problema ulteriore che si sta legando al nostro territorio tra l'altro anche perché è legato alle sorgenti che per noi sono assolutamente importanti in questo caso la sorgente Lavazzè. Come detto anche in passato noi siamo contrari non per ideologia rispetto alle centraline anzi crediamo che l'idolo elettrico sia sicuramente una fonte importante per dare energia elettrica al nostro paese che abbiamo visto anche nell'ultimo anno ha una necessità di avere un'autonomia di produzione di energia elettrica ma in questo caso non può essere secondo noi realizzata questa centralina perché l'opera di presa della centralina verrebbe realizzata a monte delle sorgenti della Lavazzè e siccome il massiccio del Grappa è un massiccio carsico potrebbe in qualche modo andare questa opera di presa a incidere sulle sorgenti e quindi a lasciare a secco non soltanto il comune di Serena e Grappa e quindi i suoi 2400 abitanti ma anche una parte del comune di Feltri perché Tomo e Villaga prendono acqua proprio da questa sorgente delle Lavazzè che è in Valle di Serena per cui noi siamo assolutamente contrari alla realizzazione di questa centralina e speriamo che la regione Veneto dia un no secco a questa realizzazione. Vedremo quali saranno comunque gli sviluppi sul tema. Cambiamo argomento adesso in base anche al suo ruolo all'interno dell'Unione Montrana-Feltrina il suo sguardo è privilegiato sull'ambito del turismo proprio del territorio feltrino in generale ma per quanto riguarda Serena e Grappa quindi il suo comune che cosa si può dire? Quali sono i punti di forza? Come sta andando? Beh io credo che come su tutto il feltrino in generale sul bellunese il punto di forza che abbiamo è il territorio quindi è la natura incontaminata per certi versi di cui possiamo godere e soprattutto il Covid ha dato anche un elemento ulteriore di come l'aria pure soprattutto gli spazi diciamo quasi dove si può camminare anche in maniera isolata sono sicuramente un valore aggiunto per il turista. La sentieristica è un punto importante, certamente non facile da gestire perché tanti sono i chilometri e proprio su questo stiamo cercando di lavorare, ossia cercando di andare a centrare le forze su alcuni sentieri per noi molto importanti, sono ad esempio quelli del percorso del pellegrinaggio da San Vitore a Cima Grappa, sono ad esempio quelli del Bosco degli Eroi, sono ad esempio quelli del percorso dell'Anello delle Foglie Eroi, sono degli elementi sul quale noi dobbiamo lavorare per fare in modo che il turista che arriva trova un sentiero pulito, un sentiero percorribile e soprattutto un sentiero che abbia dei segni a via che non inducono diciamo all'errore. Questa è una delle cose sulle quali vogliamo lavorare, insieme a questo è importante lavorare anche però su dare maggiori posti letto. Ecco, questo è un punto centrale sul quale lei più volte ha insistito anche proprio parlando a nome dell'Unione Montana Feltrina. Sì, infatti il Feltrino in particolar modo ha pochi posti letto, soprattutto in agosto quando arriviamo a tutto esaurito, in realtà potremmo sicuramente riuscire ad avere ulteriori turisti se ci fossero più posti letto. Ecco che con l'imposta di soggiorno tra le varie cose andremo a finanziare anche un progetto che mira proprio a cercare di sensibilizzare le persone ad utilizzare le seconde case che in questo momento sono chiuse, e sono tantissime le seconde case in realtà chiuse nel nostro territorio, ad essere messe a disposizione per locazioni turistiche, per B&B, per affittacamere. Questo attraverso appunto un progetto che vada soprattutto a dare modo alle persone di capire che queste case possono essere un valore aggiunto e cercando loro di dare un aiuto nel servizio da dare al turista. Ecco, ascoltando anche le sue parole Sindaco, ma poi guardando noi stessi, insomma le persone, i turisti che vengono nel territorio, vedono questa bellezza, questa nettura che ci circonda e si capisce quindi come anche il settore primario sia basilare per quello che è lo sviluppo, il mantenimento del contesto stesso. C'è per esempio un progetto con la Fondazione Cari Verona che va in qualche modo a sostenere giusto l'agricoltura in montagna, l'attività che voi proponete, il progetto Habitat. Sì, il progetto Habitat è un progetto di cui il Comune di Seren è capofila, finanziato appunto dalla Cari Verona, ma è soprattutto un progetto chiamiamolo di comunità, un progetto fatto a più umani. Hanno partecipato varie associazioni, dal Casale di San Siro all'Associazione Monte Grappa, al Consorzio di tutela del Morone, all'Università di Padova e anche alla Scuola Edile di Sedico. Questo per dare la possibilità al territorio di poter fare soprattutto tre azioni. Una, un'azione appunto sull'agricoltura, l'agricoltura di montagna che possa andare ad individuare delle specie che siano di grano e di, in particolar modo, piselli e fagioli, che siano più, che riescano a resistere di più, ad adattarsi di più al nostro territorio. Oltre a questo poi sarà importante anche il recupero dei muriti a secco, che sono una parte importante della, diciamo, della visione del territorio, anche dal punto di vista della bellezza. Estetico. Grazie ai ragazzi dell'Istituto di Sedico che potranno così anche imparare a fare muriti a secco. Ed oltre a questo anche il recupero di alcuni tratti di sedieristica che, come dicevo prima, sono una parte importante per cercare di sviluppare il territorio. Ecco, questo ovviamente abbiamo citato adesso il progetto Habitat, ma insomma ci sono tante iniziative e progettualità, ecco, davvero di grande rilievo. E lei ha parlato, Sindaco, anche del volontariato, del mondo dell'associazionismo locale, che qui a Serena il Grappa è una componente preziosa per voi, per la comunità. Sì, lo dico sempre, se nel nostro territorio le cose vanno, penso, abbastanza bene, non è solo merito, o meglio, non è merito dell'amministrazione, ma è soprattutto merito della comunità e delle associazioni e dei volontari che aiutano questo territorio e aiutano quindi l'amministrazione. Lo fanno nel mantenimento nel verde, lo fanno nel riuscire a dare servizi a chi è più debole, alle persone malate, agli anziani, lo fanno nel dare anche vita a tante manifestazioni che possono così far animare il nostro territorio, sia di quelle grandi, sia anche delle più piccole che sono fatte all'interno delle borgate, delle frazioni o della Valle di Serena. Ecco, senza di loro non riusciremo a fare niente. Bisogna dire però una cosa, il terzo settore fa fatica, fa fatica uno perché mancano i nuovi volontari, quindi c'è sempre la difficoltà del ricambio generazionale, dall'altro fa fatica perché con la riforma del terzo settore in realtà i volontari si sono trovati nell'ultimo periodo a dover sobbarcarsi un'infinità di ulteriori problemi dalla burocrazia e dobbiamo stare attenti di non far affogare, di non far morire il volontariato sotto la burocrazia. Cosa fa comunque l'amministrazione per aiutare queste realtà? Diciamo che noi con questa realtà abbiamo alcune convenzioni con le quali diamo un ristoro alle spese che hanno nel gestire questi servizi, nel gestire il verde, ma soprattutto è una sinergia reciproca nel momento in cui vi sono anche piccole difficoltà da superare anche dal punto di vista burocratico e quindi ci si dà una mano per riuscire ad andare avanti. E fra le strutture per esempio e anche gli elementi di richiamo magari per realtà che vengono da fuori troviamo il Palas Serenna. Sì, il Palas Serenna è una struttura importante che sta dando molto a questo territorio. Devo ringraziare tutti i volontari della Proloco che lo gestiscono. È importante non solamente per le attività che la Proloco fa, in particolar modo quella Sagra di Ferragosto e quella festa ai Moroni, che è una festa ormai trentennale nel nostro territorio, ma anche perché dà modo ad altre realtà di poter avere uno spazio dove poter fare eventi locali ma anche internazionali. Pensiamo ad esempio a quello di coltivare il condividendo con la chiamata raccolto che lo scorso anno ha fatto arrivare migliaia di persone non soltanto dall'Italia ma anche dall'estero. Per cui è uno spazio per noi basilare per cercare di far conoscere Serenna e Grappa attraverso spazi che possono offrire servizi e soprattutto opportunità di conoscersi reciprocamente. Benissimo Sindaco, allora abbiamo fatto una veloce panoramica delle tante attività, delle recenti attività che riguardano il Comune di Serenna e Grappa. Io la ringrazio naturalmente per il tempo che ci ha dedicato e le auguro buon lavoro. Grazie mille. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.